Viviamo in un'epoca incredibile, una trasformazione epocale, quella che è stata definita da più persone come la nuova rivoluzione industriale. Un'onda che sta travolgendo qualsiasi tipo di business, qualsiasi tipo di comportamento anche sociale, al di là dei ben noti social network. Le tecnologie oggi offrono infinite possibilità, una collettività impensabile che è solo agli albori in realtà. Tutto quello che definiamo come Internet of Things piuttosto che Industria 4.0, piuttosto che realtà aumentata, realtà artificiale, sono tutti concetti che stanno invadendo il business di qualsiasi azienda. A tutti i livelli, non per forza le grandi corporation, ma anche appunto le piccole e medie imprese anche italiane. È un fenomeno veramente invasivo che molti hanno già abbracciato. A un evento recente ho sentito un intervento di NBC che aveva fatto diciamo un survey in Italia e aveva riportato che il 50% delle aziende italiane sono aware di questo tipo di opportunità che offre la digital transformation e stanno già lavorando su progetti o pilota o già concretizzati, mentre un'altra metà del paese ignora il fenomeno e quindi c'è come al solito un paese un po' spaccato a metà. Però è in dubbio che questa onda gravitazionale, visto il tema recente, stia invadendo qualsiasi tipo di business. Dell Technologies è un'azienda che si propone di aiutare i clienti ad abbracciare la digital transformation, dare loro tutti gli strumenti per poter approfittare di un business che ovviamente è enorme potenzialmente, ma bisogna avere strumenti e soluzioni adeguati per poter intercettare le opportunità di business. Per esempio bisogna essere velocissimi nel time to market, bisogna avere le giuste tecnologie per fare la vera innovazione. Noi infatti lavoriamo in ambito digital transformation su tre assi, IT transformation, workforce transformation e security transformation. Tutti e tre gli ambiti sono fondamentali se si vuole davvero andare sul mercato e intercettare il digital business. Innovare nell'IT è sempre stato il nostro mestiere ovviamente, abbiamo sempre fatto sia con Dell che con l'IMC innovazione nel data center, l'IPC, nel workstation, nell'interfaccia uomo-macchina vedrete delle novità davvero interessanti per esempio in ambito realtà aumentata, interfaccia appunto con nuovi prodotti per l'innovation nella workforce, così come la sicurezza con le aziende che fanno parte del nostro holding che sono RSA e SecureWorks. Quindi la security è la base di tutto, se voglio portare nuove applicazioni sul mercato inevitabilmente vi devo porre il problema della sicurezza. Idem per quanto riguarda la forza lavoro, dicevamo che cambiano le interfacce, le modalità di operare degli utenti e infine appunto ottimizzare le risorse del data center. Il tutto poi non può fare a meno di un'integrazione con il cloud, le nostre soluzioni sono pensate ad hoc per implementare cloud ibrido e come dire ottenere tutto il giovamento, tutte le possibilità che questa modalità offre. Per noi e per Michael Dell il cloud non è un posto dove mettere i dati, il cloud invece è un modo di utilizzare le tecnologie. E infine forniamo soluzioni di business analytics che secondo noi sono indispensabili per approfittare di quello che chiamiamo appunto nuova rivoluzione industriale. Voglio fare digital business significa raccogliere mole di dati enormi, armonizzarli, poterli analizzare per avere davvero quegli insights che servono ai business leader per prendere le decisioni corrette. Digital transformation, opportunità di business, siamo pronti ad aiutare i clienti per accettare la sfida e vincere. Grazie.